Sono su internet Mi scappa la pipì Come va? Grazie 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 Ok Quarto La terza Ligia Due Se il bottone Mostra un due Premi il bottone Nella prima posizione Ok Sempre quattro Adesso Due Se il bottone Mostra un due Premi il bottone Con la stessa scritta Di quello premuto Nello step due Quattro Quattro E ci salta Le mani Lì di forma Devi essere Goro Sì Destra giù Vai destra giù Dai no Sì Ho premuto Ma l'ho premuto Ma non l'ho aspettato L'ho premuto No dai C'era L'hai sentito il click L'hai sentito il click No non l'ho sentito il click Per quello il problema Non l'ho sentito il click C'era C'era Siamo morti tutti Mentre premevo Mentre premevo esploso Siamo morti tutti Simone Sembra la scena finale Di un telefilm Mentre tutti parlano Non parlano più della trama Si siede il narratore E dice E questo è l'ufficio Brainstormers E' un posto di allegria E' un posto di Sto facendo il video Quello Ma hai visto l'unica Sto perché sai E' di fine stagione Che tutti i brindano Intanto davanti alla telecamera E' l'unico fuoco Si mette a fuoco L'unico fuoco L'unico fuoco Di festa E' l'unico fuoco Cosa ho detto Io ormai non so più come risponderti Hai sentito? Siamo in un posto Cioè mi ha lasciato la scumbata Dai la scumbata che vola Come è possibile? No no mi sono unito Vabbè cambia macchina E vive A posto Settecenta macchia Tutti nel secondo Cos'è che era? Cos'è che era? E? Cos'è bisogno? E' la polizia Come? Grazie a tutti. 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 e... No, ma... a tutti. un ringra... un... 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 per... un... un...